Beh, è sicuramente un onore essere qua, essere parte di questa grande famiglia e essere riconosciuti, questa medaglia che viene data alle fiamme oro, devo dire che è una cosa bellissima, è un onore e per me è la prima volta partecipare a questa festa e quindi essere qua è sicuramente qualcosa di importante. Sì, l'anno scorso c'è stata per la prima volta l'assunzione, noi siamo entrati in 14, atleti paralimpici di 6 discipline differenti e come ha detto il Presidente, Pancalli è qualcosa a cui stavano lavorando da tanto, è sicuramente un pezzettino per cambiare la cultura, secondo me, di tutto il paese, al di là del nostro ingresso credo che sia proprio un passaggio culturale questo. E come vi state preparando per le Paralimpiadi di Parigi? Quest'anno è un anno importante, noi del nuoto avremo un europeo tra una settimana, dieci giorni e poi ci saranno appunto le Paralimpiadi, sarà un evento molto grande, molto importante, c'è molta attesa e sicuramente ogni Olimpiade è a sé e si tira a sé, il bello dei giochi olimpici è che si tira sempre una riga e ci si tuffa perché è il bello di competere. L'obiettivo è sicuramente puntare in alto e poi bisogna divertirsi e giocarsela.